Prenderanno il via nei prossimi giorni i corsi di aggiornamento previsti per il rinnovo dei certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani addetti al trasporto di animali vivi. In particolare si tratta di equini, bovini, ovini, ma anche suini e pollami, oltre al trasporto di animali domestici a fini commerciali. L'attività formativa sarà curata da Performa Sardegna, l'agenzia formativa del sistema Confcommercio, in stretta collaborazione con i servizi veterinari dell'ATS ASL di Sassari. I conducenti e i guardiani devono munirsi di un certificato di idoneità e, prima dell'ottenimento del certificato, sono obbligati a frequentare un corso di formazione teorico-pratico che dà tutto un insieme di competenze che servono proprio a garantire all'interno di questi mezzi di trasporto, ma anche nelle operazioni di carico e scarico, il benessere degli animali. Queste conoscenze fisiologiche si acquisiscono frequentando dei corsi di formazione tenuti da veterinari formati dalla comunità europea e dal Ministero. Il patentino è stato rilasciato una prima volta nel 2007 con validità decennale, in base ad un regolamento comunitario del 2005 per la tutela del benessere animale durante le operazioni di trasporto. A dicembre è stata emanata proprio una precisa disposizione, una nota esplicativa del Ministero che ha stabilito la necessità di rinnovare questi certificati. Sono previsti anche corsi di 12 ore complessive per il rilascio del certificato di donità, stabilite sanzioni per chi è inadempiente. Da parte del Ministero un decreto legislativo, il 151 del 2007, sanziona pesantemente e molto restrittivo nei confronti di tutti coloro che non adempiono. Per l'iscrizione è necessario contattare, entro e non oltre lunedì 29 gennaio, gli uffici centrali della Confu Commercio del Nord Sardegna in Corso Pascoli a Sassari.